Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi doveva uscire un video dedicato comunque a una creazione, a qualsiasi cosa riguardi il mio mondo, il mio mondo che è fatto di creazioni, non per bambini. Niente, vabbè, specifico dopo. Sigla. È arrivata l'apocalisse. È arrivata l'apocalisse di YouTube che stavamo aspettando, che c'era stata già preannunciata. È arrivata una batosta dove pensavi che non sarebbe accaduto tutto questo, pensavi che qualcuno dall'alto avesse trovato un'altra soluzione. E invece no. La famosissima legge Coppa, che significa Children's Privacy Protection Act. La protezione dei bambini online, praticamente. Ragazzi, che dire, questa cosa tocca tutti i canali, come avevo detto mesi fa, quando tornai appunto dalle mie vacanze. Tutti quanti dicevano, ma no, ti stai allarmando senza motivo. Tutti mi dicevano, ma il tuo canale non è per bambini. Ragazzi, avevo capito benissimo cosa intendeva fare questa legge Coppa. La legge Coppa, ragazzi, ci ammazza. Ammazza la libertà di espressione. Ammazza tutto il lavoro e sacrificio che noi creators di YouTuber, anche se io... Mi metto dalla parte di quelli che hanno appena iniziato, in realtà, a fare i creator. Sono un po' di anni che sto su YouTube, ma non cresco come tanti altri. Proprio perché i video più appetibili su YouTube sono... YouTube gira con le visualizzazioni dei bambini. Bambini anche sotto la soglia dei 13 anni, appunto, che dice questa legge, questa legge Coppa. Perché per YouTube ti puoi scrivere, appunto, avere una mail, Gmail, per iscriverti a YouTube, dai 16 anni in su. Ma i bambini furbetti, perché i bambini di oggi sono veramente dei furbi e sono intelligentissimi, sveglissimi. Cosa fanno? Non si fanno? Non aspettano 16 anni e nel frattempo guardano YouTube Kids. Perché giustamente fino a 13 anni, ragazzi, YouTube Kids ci sono cose per l'età prescolare, cose che i bambini si annoiano. Cosa fanno? Si guardano YouTube dal cellulare di mamma e papà. Guardando YouTube dal cellulare di mamma e papà, cosa succede? Che il bambino va a dare visualizzazioni a certi determinati tipi di video, in modo che questo bot che decide se è un video per bambini o meno, capisce che quell'account sia di un adulto, ma in realtà lo sta guardando un bambino. E un bambino che potrebbe mettere dati sensibili, perché sanno anche scrivere i bambini piccoli, 7-8 anni e così, sulle tastiere di oggi, mettono anche dati sensibili. Questa cosa, ragazzi, non è né colpa nostra dei creators, non è colpa dei bambini, ma è colpa dei genitori che lasciano i bambini davanti ai cellulari per ore e ore senza vedere quello che guardano i propri figli. Per questa cosa ci sta andando di mezzo tutto YouTube. Al 99,9% ogni video è maledettamente appetibile per i bambini. Anche i vlog, anche una persona che fa illustrazione, che fa uno timelapse di un disegno, una persona appunto che crea con le paste polimediche, che per i bambini potrebbero essere plastichina, anche se utilizzo taglierini, anche se utilizzo un forno, non ce ne frega, è per bambini. Questo mi è stato detto da YouTube. Perché faccio questo video? Tutti dicevano, no, ma il tuo canale non sarà toccato perché tu fai cose per grandi. No ragazzi, YouTube mi ha flaggato, appunto mi ha messo la spunta su alcuni video miei adatti ai bambini. Come ad esempio, tipo, ho fatto la maschera di Crash Bandicoot, quella che ti dà il jolly, insomma, che non muore, non mi ricordo come si chiama, me l'ha flaggato per bambini. Altri video di tutorial di Fimo, di paste polimeriche, mi sono stati flaggati per bambini. Adesso c'è un'opzione nuova. Quando carichi un video, devi automaticamente dichiarare se quel video è destinato a un pubblico per bambini. Pubblico per bambini, non guadagni, perché il video viene demonetizzato. Il video non può ricevere commenti e tu non puoi rispondere automaticamente. E tre, non hai notifiche. Quindi se sei iscritto al mio canale, il mio video è per bambini, non avrai notifiche. Non potrai commentare, quindi praticamente io che cosa lo faccio a fare il video? Per me stesso, per quanto so brutto per farmi vedere in video? Io se faccio una cosa è per instaurare un rapporto con chi mi segue, come tutti i sacrosanti youtuber e creators qui su questa piattaforma. È veramente diventata una cosa impossibile. E quindi in questo caso, se il tuo video non è per bambini, vai a flaggare l'opzione no, non è per bambini. Ma se YouTube vede una minima cosa dove tu, appunto, hai detto il falso, perché quel video magari ci hai fatto un personaggio Disney, infimo, anche nel tuo stile. Però sul titolo c'è quello, sulla copertina c'è quello, nei tag c'è quello. Per YouTube quello è un video per bambini, perché magari hai creato Elsa della Disney. Quindi è per bambini automaticamente. Automaticamente si rischia una multa di 42.000 dollari. Sì. E automaticamente a me passa la voglia di caricare video, perché ho l'ansia. Ragazzi, abbiamo l'ansia di caricare video adesso. Anche un vlog come questo è appetibile per un bambino, perché un bambino è curioso. I bambini sono curiosi. I bambini vanno, cliccano dove vedono cose che potrebbero interessarli. Magari io metto Norberto come in copertina, piace ai bambini, quindi quel video è per bambini. Nonostante il mio canale abbia, nelle analytics, comunque una bella soglia di persone che guardano i miei video, che non tocca proprio l'età 16, 20, 25, i miei video sono visti tutti da persone molto più grandi, dai 30 in su. Però se tu dichiari che un video non è per bambini, però per YouTube lo è, ti rischi la multa. Senza poter reclamare, ragazzi. Cioè, questa cosa è assurda. YouTube, scrive YouTube, non ti rispondono. Ma se ti rispondono non lo sanno nemmeno loro. C'è una tale confusione, un tale casino, a parte che a me e a colleghe miei ci piglia male. Ci viene da piangere. Io non tanto, sono solo in ansia di caricare video adesso, in questo momento. Perché c'è l'ansia di caricare video, perché YouTube potrebbe penalizzarti. Amiche mie e amici miei che lavorano proprio nel campo dei bambini e fanno video con storie di giocattoli, unboxing di giocattoli o unboxing di qualsiasi altra cosa, stanno in ansia. È un casino, perché hanno avuto tutto il canale flaggato per bambini. E automaticamente guadagneranno il 60, l'80, il 90% in meno di quello che guadagnavano prima. Gente che ha... sono anni, ragazzi, che lavora. Gente che magari parla di giocattoli, però nella maniera collezionistica, se esiste questo tema. Ovviamente sono seguiti anche da bambini, ma alcuni canali che conosco e che seguo parlano di giocattoli per collezionisti, per persone grandi o di persone che customizzano appunto le bambole. Però se c'è una bambola, quel video è per bambini. Ragazzi, ma che fine stiamo facendo? La libertà di espressione se n'è andata a c***o, se n'è andata a fulo. Io sono preoccupatissimo. Adesso ho da fare un po' di recensioni di prodotti che mi sono arrivati. C'ho l'ansia, avevo in mente di preparare tutte cose, dei video dedicati al Natale, con alcune decorazioni da fare a mano, di fare allo stesso. Però con l'ansia che c'ho devo mettere che non sono per... che quei video sono per bambini. Perché se dico di no, rischia una multa di 42.000 dollari. Ragazzi, ma dove ne andiamo a prendere 42.000 dollari? Dove ne andiamo a prendere tutto questo perché, vi ripeto, i bambini mettevano, mettono spesso nella loro ignoranza e ingenuità, mettevano dati sensibili tipo sotto ai video del proprio youtuber preferito. Ciao, io sono Giulia, ti prego, vieni a trovare, io abito a via dei 1244. Questi dati sensibili potevano essere comunque presi da pedofili, gente malintenzionata e automaticamente, giustamente, YouTube ha detto io devo proteggere questa cosa, non voglio andarci sotto di nuovo, non voglio una multa, quindi per colpa dei genitori che non vedono quello che fanno i figli sui telefonini, ci andiamo di mezzo noi, noi creators, noi artisti, noi creativi, noi che abbiamo il semplice hobby di editare video. Ma non... molta gente pensa, ah, che bello, a quello gli piace stare su YouTube, gli piace farsi vedere, ragazzi, io per me di stare su YouTube. Era una persona permalosa, era una persona scurnosa, come si dice, timido, insomma, tradotto. Avevo problemi a interlacciare, a instaurare rapporti con le persone. Ero socievole, ero positivo così come mi vedete, però sono cresciuto con YouTube, sono diventato un'altra cosa, mi sento evoluto. Quindi dire addio a YouMarsChannel per me adesso è la cosa più brutta che c'è, perché per me questo è un modo di evadere, è un modo di arrivare dove non riesco ad arrivare magari su altre piattaforme, è un modo di arrivare per fare conoscere chi c'è dietro ai miei draghi. Cioè è un modo di far vedere che questo sono io, questi sono i miei draghi, queste sono le mie creazioni, abbiamo questi strumenti, e come al solito l'uomo, l'essere umano, deve fare dei casini. L'uomo, l'essere umano, non è capace di mantenere una cosa nel tempo, ma sa soltanto distruggerla. Una cosa bella come la libertà di espressione, perché fra poco ragazzi non potremo dire nulla, non potremo fare più nulla, non potremo dire più nulla, non si possono mettere più le melanzane e le pesche sui social, perché sennò vieni penalizzato, ti bloccano l'account, perché la melanzana è un simbolo fallico e la pesca è un culo. Ragazzi, la melanzana è una melanzana, siete voi che vedete le cose, c'è la gente che vede le cose maliziosse dove magari non ci sono, ma andate a fare queste cose su altri siti apposta, dico io, lasciate stare Facebook e Instagram, c'è gente che comunque campa per rovinare quello che c'è di bello nel mondo. E la non attenzione dei genitori, ragazzi, è una cosa che io non sopporto, io se avessi un figlio non lo lascerei mai davanti a un computer o a un tablet sapendo la merda che potrebbe trovare sul web, con il mio account da adulto. Quindi, ragazzi, perché YouTube non ha sponsorizzato di più YouTube Kids? Perché non dire, oh, c'è YouTube Kids, sto più tranquillo, mio figlio così non va su YouTube a vedere i video che non deve vedere? No, facciamo caricare ai YouTuber comunque i loro video, poi li multiamo in caso si sbagliano. No, non facciamo una pubblicità mirata ai genitori dicendo, vediamo molte visualizzazioni, fate arrivare un messaggio su questo cazzo di YouTube dei genitori, vediamo che tu guardi molti video per bambini, sei un bambino? Sì, passa YouTube Kids, non puoi più scaricare YouTube normale. YouTube normale, ragazzi, è fatto di gamer, di gente che scherza e ride, addirittura, ragazzi, i vlog, i vlog dove io mi diverto da morire, con Nina, che adesso partiremo con i vlog di Miniature Italia, potremmo essere flaggati come per bambini, perché scherziamo e rideiamo. Non siamo i mei contro te, tra l'altro loro hanno perso un impero praticamente su YouTube, fanno solo video per bambini, quindi automaticamente passeranno a YouTube Kids e non guadagneranno più nulla. Non siamo i mei contro te, in Nina siamo due creativi, per persone grandi, per collezionisti, noi facciamo cose per collezionisti. Qua sotto in descrizione vi metterò anche dei link della petizione da firmare che ha lanciato anche la mia amica Nerdicrafter, Jackie, appunto la mia amica creativa americana. Andatelo a firmare. In più c'è un altro link che vi metterò, per chi è più capace a scrivere in inglese, deve scrivere in un campo di 5.000 caratteri cosa c'è che non va in questa legge, perché giustamente chi ha creato questa legge vuole sapere cosa ne pensa la community. Quindi ragazzi fatelo perché è davvero importante. Qui sotto in descrizione scrivetelo magari in italiano, poi andate sul traduttore di Google e lo traducete. Tanto comunque capiscono uguali i miei americani, non vi preoccupate, anche se c'è qualche verbo sbagliato si capisce perché il traduttore non è preciso. Quindi ragazzi noi siamo costretti a prenderlo in quel posto. Proprio adesso che vedevo una maggiore reattività da parte vostra, da parte delle iscrizioni, proprio adesso che avevo capito che magari fare un video in inglese e uno in italiano era la mia risoluzione per me, perché non perdevo tantissimo tempo a fare 3-4 video a settimana, o le live, che vorrei continuare a fare. Ma con le live adesso cosa succederà? Con le live cosa succederà? Cioè il tempo reale YouTube riesce a capire sia un video per bambini o meno. Io questa cosa veramente mi lascia non poco basito, cioè essere giudicato da un computer che non capisce la differenza tra collezionismo di bambole o di creatività per adulti o a creatività per i lavoretti della scuola. Quindi alla fine aveva ragione Pupo, ragazzi. Quando io ho fatto il Festival di Castrocaro sul Rai 1 5 anni fa, 4 anni fa, quasi 5 anni fa, Pupo disse, ah tu fai i pupazzetti. Sì ragazzi, per YouTube noi creativi facciamo i pupazzetti. Noi creativi che disegniamo su YouTube o che facciamo vedere un'illustrazione, facciamo i quadretti, facciamo le cose per l'asilo. Essere declassato ancora una volta da un cazzo di social che mi aveva dato tanto mi fa sentire come una bestia, ragazzi. Sto male, sto vivendo male questa cosa. E non è per la monetizzazione, ma per l'ansia di essere multato, ragazzi. Perché 42.000 dollari non li possiamo andare a prendere così. Ragazzi, ho 40.000 euro, ma scherziamo? Ma dove li prendo? Mi devo vendere un rene? Cioè, 40.000 dollari? Non è che dice YouTube faccio una multa, una multarella di 500 euro, di 100 euro a chi sgarra. E tutto questo, ragazzi, arriverà a gennaio 2020. Perché adesso YouTube sta cominciando a flaggare video, ma a gennaio 2020, chi non è in regola, lo prenderà in quel posto. Io voglio vedere cosa succederà. Voglio proprio vedere cosa succederà. Perché non si può campare così. Cioè, io mi sentivo libero qua su questa piattaforma. Più libero che su Facebook e che su Instagram. Ma non si può fare più niente. È diventato... Mi sembra di stare tipo in periodi di guerra, anche se non l'ho vissuto e non voglio paragonare assolutamente chi purtroppo l'ha vissuti. In periodi di guerra dove c'era il coprifuoco, dove c'era il malessere, e mi sento come se appunto mi stessero togliendo qualcosa. È bruttissimo. Non voglio fare paragoni, lo ripeto, assolutamente. Però è come se ci stessero togliendo veramente l'anima creativa da dentro al cuore. Così mi sento proprio strappato. Che pizza, che pizza, veramente. I soldi che uno ha speso per comprare le luci, la macchina fotografica migliore, per fare video, la luce di qua, la luce di là, il ring led, il light box, lo sfondo, le lucine dietro, e fai questo, e fai questo. Tutti questi anni, buttati nel cesso. Così. Non so adesso cosa faremo, infatti io poco fa ho ricevuto un messaggio di Nina che non è preoccupata di più, perché noi pensavamo di essere fuori da questa, da questa YouTube apocalypse, ma a quanto pare no. Infatti Nina mi dice, Uomo lo sai che da gennaio se noi decidiamo ed inseriamo uno dei nostri video come non per bambini, ma alla fine è ugualmente appetibile per i bambini, ogni singolo video potrebbe essere buttato per 42.000 dollari a video? A video eh ragazzi, non a creator. Le faccio 10 video, vado a prostituire ragazzi. Vedete che poi viene messa ancora avanti il fatto di gente che, per diventare famoso, si vende su OnlyFans, si vende su Instagram spogliandosi un pochettino, quella gente guadagna, quella gente fa bene ragazzi, hanno fatto bene, hanno capito tutto, studiare non serve a un cazzo, studiare non serve a niente, perché tanto ti spogli, hai i mille mila, i migliaia di migliaia di followers, fai i soldi, nessuno ti dice niente, perché tanto, vabbè sei spogliata, non sta nuda, stai in mutante, stai in perizoma, oppure stai con gli addominali da fuori 24 su 24 nelle stories di Instagram. Raga, il mestiere del futuro è quello. Essere creativo nel 2019, o anzi dal 2020 in poi, sarà declassato ancora di più a come era prima. Questa cosa colpisce tutto il mondo ragazzi, non solo l'Italia, non solo l'America, ma colpisce tutto il mondo. Oltre ovviamente alla multa vicinina, c'è anche la cancellazione del canale, quindi anni e anni e anni di lavori buttati nel cesso. Quindi dovremmo fare attenzione, ma anche se facessimo attenzione ugualmente, ciò che facciamo in realtà è per bambini. Quindi dalla serie o non pubblichiamo più video, o li pubblichiamo per bambini. E infatti quello che poi ho pensato a Nina, che abbiamo avuto comunque la stessa, appunto, la nostra stessa risposta è stata che YouTube chiuderà entro uno o due anni, perché penso che con questi pochi guadagni che tutte le aziende, i brand, le pubblicità che avevano prima, non li avranno più. Automaticamente YouTube è destinato a morire un annetto, nemmeno due anni, ma nemmeno, eppure troppo, quello che abbiamo pensato a Nina. Succederà molto presto. E spero apra un'altra piattaforma dove noi possiamo sentirci liberi e protetti. Spero venga fatta una campagna per i genitori annoiati, ragazzi, nei genitori troppo occupati per occuparsi dei bimbi, troppo occupati per non guardare quello che guardano i figli. Spero che venga fatta una propaganda migliore. È successo tutto troppo veloce, non riesco manco a parlare, ho la bocca impastata. È veramente degradante. Non so cosa ne pensate voi, io penso che se volete domani facciamo una live, anzi non la faccio, facciamo una live sul canale verso le 4 e mezza e così ne parliamo insieme. Vediamo un pochettino come la pensate voi. Preparatevi delle domande, se vi va, preparatevi quello che volete in modo che io studio un altro pochettino questa cosa e posso rispondervi al meglio perché anche voi dovete capire come mai tutti i vostri youtuber preferiti spariranno. Perché ragazzi spariranno tutti. È deciso. Cosa faranno i miei conto? Cioè io ho pensato a questo punto o mi metto a fare le ricette sul canale. Pensate, è da luglio che giro dei video con Norberto per fare appunto la serie con me e Norberto e nessuno la potrà mai vedere molto probabilmente. La cosa che più mi da, la cosa che più mi, un po' mi studisce è che la gente dice vabbè metti, inizi a dire le brutte parole su web mentre fai il video, mentre fai un video dici qualche brutta parola così YouTube non lo consiglia ai bambini oppure ai bambini non lo possono vedere. Non è quello ragazzi perché se io cominciassi a fare a dire brutte parole nei video succede che YouTube me lo flagga di giallo quindi me lo demonetizza quindi lo prendi nel culo nella stessa maniera. Automaticamente vi dicevo se preferite magari poi vediamo come va a finire in questi mesi io intanto penso che continuerò a fare quello che ho sempre fatto. I video mi sono stati flaggati erano 5-6 per il momento ma il botto potrebbe trovarne altri però già c'ho l'ansia continuerò a fare quello che faccio ragazzi non so quello che succederà se mi vedete più se no mi venite a trovare con una busta di arancia in carcere perché non riuscirò a pagare una multa di 42.000 dollari e pass cioè no. no e molte persone dicono sempre sta cosa va bene ma falli un po' più così falli un po' più colì raga io non posso fare un video che non mi rispecchia al massimo siccome mi piace cucinare posso trasformare il canale in un video nell'arte culinaria o fare dei video comici in cucina dove magari però il problema è che tutti i video sono appetibili per i bambini se faccio un po' più simpatico e faccio la voce di Giovanni mucciaccia potrei essere appetibile per questi casi i bambini io amo i bambini ma i bambini ragazzi devono stare su youtube kids se io avessi cercato un pubblico di bambini non venivo su youtube perché su youtube gira tutto con i bambini ma io non voglio i bambini sul mio canale io voglio gente che ama la creatività gente come me gente grande per quanto possiamo essere 15 anni internamente ma voglio gente grande che mi segue gente con cui posso parlare e confrontarmi gente che magari crea colleghi non voglio persone che mi dicono bravo lo voglio ma mia mamma non me lo vuole comprare non mi interessano cioè mi piace parlare con i bambini non capitemi male ma non su questa piattaforma fate un'altra piattaforma dove è obbligatorio che i bambini siano lì e se vengono beccati i bambini con cioè c'era la soluzione se un canale viene visto di un adulto viene usato da un bambino è semplicissimo youtube se ne accorge perché vede che la persona che magari ha 25 30 anni vede video di peppa pig di spider man le persone che si travestano e fanno tipo quelle sitcom che fanno ridere per bambini o peppa pig e altri cartoni animati o canzoni per bambini youtube se ne accorge bene questo video questo canale così perfetto questo significa che un bambino sta guardando questo canale questi video e va multato multate le persone che guardano i video che commentano non multate noi che diamo contenuti creativi multate loro e ti dice vabbè però ci sono anche 30 anni 40 anni 50 anni appassionati di giocattoli è vero anche questo quindi raga non si può fare una differenziazione perché tutto è per bambini e tutto è anche per adulti quante cose io guardo che sono della disney ho 37 anni quasi raga io passo giornate a cercare video di canzoni di broadway che fanno le musical della disney su youtube perché mi piace sentire i cantanti che fanno le canzoni dal vivo e impazzisco per queste cose potrebbe essere per bambini io ho la cover pronta di into the unknown che ancora non ho montato e non ho messo sul web perché c'ho l'ansia forse perché anche ho fatto un po' cagare a cantare la devo ricantare però non si può fare questa differenza non si può fare e loro pretendono che noi dobbiamo adeguarci caro youtube chiuderai anche tu e te lo auguro te lo auguro con tutto il cuore perché ci hai tolto tutto hai tolto tutto a me a tanti colleghi miei e oltre che chiudere i nostri canali chiuderai anche tu sarò felice perché google deve fallire a questo punto per me youtube deve fallire io lo auguro con tutto il cuore hai tolto a tante persone che mi seguono un sorriso o più sorrisi perché spesso mi scrivete che anche se non create è bello sentirmi parlare è bello scherzare insieme fare le battutine ci vedremo su altri social ragazzi dove potremmo essere noi stessi dove potremmo fare live perché magari per esempio su instagram ma adesso c'è i gtv i video che farò li farò per i gtv che vedevo di da gennaio vedremo silenzio di tomba facciamo una pausa perché la pausa ci vuole perché non so più che cacchio dire non ci sono parole ti senti svuotato ti senti privato di quello che hai sempre sognato di fare boh c'è mille idee in testa poi arriva il natale perché il natale su youtube è importantissimo io e Nina stiamo facendo un progetto particolare che non vi dico nulla io penso che lo faremo lo stesso ragazzi noi saremo noi stessi fino alla fine almeno fino a dicembre poi da gennaio in poi vedremo un po' perché questa legge è anche retroattiva quindi si va a parlare anche di video fatti sette anni fa dove magari ho fatto che ne so un personaggio della disney o di un cartone animato conosciuto dai bambini che mi viene flaggato per bambini e magari io non l'avevo messo per bambini perché all'epoca non esisteva questa cosa e ci beccheremo una bella multa già poveri noi chi fa le cose brutte del mondo non lo prende mai nel culo chi vuole fare le cose sane intelligenti divertenti positive che fanno stare bene lo prende in quel posto sempre sempre ragazzi oramai ti dici il karma non il karma ma ti senti proprio una mezza per aver scelto questa vita a un certo punto dici ma mi mettevo a fare un lavoro come tante persone che studiano che ne so giurisprudenza mi mettevo a fare l'avvocato mi mettevo a fare il veterinario che l'avrei potuto fare perché le capacità non mi mancano sono intelligente ma potevo diventare professore di storia dell'arte di disegno se volevo far quello io lo facevo ragà perché non mi interessava volevo stare qui presente e a far vedere al mondo e a lasciare un segno di me questo era il mio intento non mi piace stare in una stanza chiusa dove nessuno sa chi sono e non è una questione di orgoglio o di tirarsela perché ci tengo a lasciare un segno su questa terra da 37 anni tra 60 se tutto va bene 60 anni non ci sarò più sembra un po' tragica questa cosa che sto dicendo però raga è un brutto colpo è uno sfogo per me grande montare video era per me è per me ancora una cosa divertentissima gli effetti le cose i filtri i colori le luci questo quell'altro che vedevo di sto parlando dopo due ore e mezza di pranzo domenicale e ho anche la pancia mi fa anche un po' moreva la pancia forse per il nervosismo vabbè vi saluto teniamoci aggiornati per domani alle 16.30 ci vediamo in diretta non mancate perché io aspetto le vostre domande se avete qualcosa da dire scrivetevela e me la dite domani ok come fa chissà eh questo è lo spruzzo dell'aria del deodorante era bello salutarvi con acchiappateville ve lo farò fino alla fine finché potrò un abaccio acchiappateville ciao